buonasera a tutti analizziamo insieme la classifica della zenefex trading cup primo posto classifica gain equity david pascucci che supera il 70 per cento 72,14 per cento a meno di un mese dall'inizio della competizione secondo posto per lorenzo ferrari una percentuale anche qui molto importante 55,98 per cento di gain su equity terzo posto massimiliano filippi 26,85 per cento andiamo a vedere anche gli ultimi di questa classifica gain equity ultimo posto gaetano spina meno 87,02 per cento seguito al secondo posto dalla fine da stefano zoppi meno 62,29 per cento terzo ultimo giuseppe ferrara meno 38,24 per cento classifica invece gain drawdown vede al primo posto alessandro attems 4,73 seguito da manuel trotta al 4,04 e fabio favitta terzo posto 3,89 ultimi posti invece di questa classifica troviamo manuel sanchez meno uno seguito da salvatore la briola meno 0,96 e terzo ultimo gaetano spina meno 0,95 un dato interessante di questa classifica è che vediamo nella gain equity classifica gain equity che ci sono 19 formatori in negativo quindi performance negativa sono in perdita e 23 in positivo mentre due sono invariati perché non hanno ancora operato quindi prevale il numero di formatori comunque che sono attualmente in profitto in questa gara buona serata a tutti